La Venia. I giovani sono allo sbando perché lasciati soli. Serve una rivoluzione educativa. I dati sulla fragilità dei giovani non sono solo numeri, afferma, ma un grido d'allarme che denuncia l'incapacità della società. A seguire, sottolinea che l'8% di adolescenti con disturbi neuropsichiatrici è un segnale di un malessere diffuso che non abbiamo saputo cogliere. La vera sfida, sostiene, non sono i ragazzi persi, ma gli adulti incapaci di ascoltare e accompagnare i giovani nella crescita. Se i giovani sono allo sbando è perché li abbiamo lasciati soli, illudendoci che la loro capacità di navigare online fosse sinonimo di autonomia, conclude la Venia.